Noi prendiamo a bordo della grande famiglia della Polizia di Stato, delle Fiamme Oro, del Ministero dell'Interno, il gruppo degli atleti paraolimpici, li prendiamo con il loro carico di valori, di significato che hanno dato alle loro vite. Entriamo in una nuova era dello sport paralimpico italiano perché comunque finalmente abbiamo la possibilità di fare professionisti a tutti gli effetti e era quello che secondo me mancava per stare ai passi con le altre nazioni. C'è lo sport olimpico, paralimpico ma io sogno il giorno in cui riusciremo passo dopo passo con il consenso di tutti a costituire anche un unico organismo che racchiuda tutte le attività olimpiche e paralimpiche. Ci inorgogliscono le vittorie anche degli atleti paralimpici e delle atlete perché sono un motivo di ulteriore responsabilizzazione oltre che un motivo di soddisfazione morale.